benvenuta quindi immagino che ciao meri carissima vita benvenuta nostro appuntamento con questa università della conoscenza lux voluta dalla nostra cara anna che è entrata in questo momento che saluto e chiaramente da enrico che è l'ideatore di questo meraviglioso canale che focus coadiuvato da giorgio e quindi eccoci qua roberta benvenuta vita mi fa piacere vedervi qui perché carmine benvenuto benissimo e li grazie sonia carissima ciao spero di vederti presto siamo visti un po di tempo fa passato un po di tempo sarà più bello di berciarci mettiamola così quindi bene si sente benissimo si vede benissimo io sono contenta che siamo tutti collegati speriamo che tenga tenga la come si dice il segnale perché oggi ho parlare di questa grandissima gabriella alvisi che è stata anche lei una delle colonne portanti della metafonia e anzi devo dirvi una cosa che mi piace condividere con voi che ho avuto il piacere di essere stata contattata da una persona che ha avuto l'opportunità di conoscere molti di quei personaggi di cui adesso stiamo parlando e quindi ci siamo ripromessi che con calma parleremo e mi darà qualche mi dirà mi racconterà qualche aneddoto aneddoto che non è ovviamente nei libri che ci permetterà di riconoscere più in modo più approfondito questi queste persone che si sono occupati di metafonia quindi è un ascolto e sarà una testimonianza privilegiata adesso siccome è una cosa proprio fresca fresca non abbiamo avuto il tempo materiale di parlare come avremmo voluto ma credo che questa cosa non sia casuale perché ovviamente io non credo al caso questo l'avrete già capito e questa telefonata di questa persona che comunque ha conosciuto la laura paradiso padre ernetti devo dire riccardo di napoli quindi come posso dirvi e mi sembra proprio un segnale dal cielo che siamo sulla strada giusta quindi questo ponte di luce questa 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 iniziativa di anna che comunque è stata vallata perché io ho chiesto quindi hanno detto che dovevo portare la luce credo veramente che la stiano supportando molto molto bene davvero e mi stiano aiutando anche perché io non sono ovviamente una docente fatta e finita sono una che ha l'esperienza sul campo ecco interessata in quanto metafonista e quindi apprezzo e stimo leggere la vita dei personaggi che mi hanno preceduto no perché ognuno porta il suo diciamo porta per il pezzo che gli è concesso nella sua vita no quindi è il mio dovere preciso portarlo avanti assolutamente per il tempo che è stato stabilito il migliore dei modi nel migliore dei modi io ho pensato una cosa voi siete d'accordo faremo una prima parte sicuramente che leggeremo qualche pezzo del libro della gabriella alvisi quelli che ho segnato io ho letto il libro ho segnato qualche punto così che se uno spunto per poter riflettere fare delle domande e poi magari come l'altra volta lasciamo un piccolo spazio finale un quarto d'ora affinché voi possiate fare delle domande e io se riesco ben volentieri risponderò a queste domande e quindi io ho il benvenuto a tutti siete tantissimi io pensavo che questo argomento non interessasse a molti perché chiaramente i contatti sono molto belli però io ritengo sia molto valido anzi assolutamente valido anche costruirsi una cultura dietro quindi avere anche un po di storia no perché attraverso gli altri si impara anche noi io per prima quindi sono felice di vedere che siete veramente comunque numerosi e questo mi fa mi fa veramente piacere quindi grazie a tutti Teresa Carla grazie a tutti Elisabetta benvenuta io adesso sto guardando un po tutti siete tantissimi Patrizia cara Rocco benvenuto Cristina benvenuta bene bene siamo veramente Luciana Luciana mi chiama il delle nuvole mi ha dato questo soprannome mi ascolti dopo va benissimo va benissimo tanto queste dirette poi rimarranno poi vanno su youtube sul canale di focus ovviamente e quindi Daniela cara siamo veramente tanti no speriamo che non si blocchi no diciamolo nemmeno non nominiamo nemmeno questa cosa speriamo che non succeda per l'amor di dio speriamo proprio di no pomeriggio c'è meno con gente collegata quindi secondo me a quest'ora dovremmo essere più tranquilli Angela siete tantissimi veramente Alessia guardate quanti Ilaria Patrizia Pina Alessia grazie 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 veramente dolce fanciulla è una volta adesso più che fanciulla è sono un mobile agli antiquariato Elisa carissima molti di voi li conosco di persona altri ho soltanto ci siamo sentiti sempre attraverso questo queste dirette però è nata anche una bella amicizia no quindi è un modo nuovo no che si è aperto anche per per me e per tutti quindi magari le mie diciamo lacune sono riuscita a fare le dirette quindi va benissimo va benissimo così quindi carissime io direi di partire che siamo già un ottimo numero allora questa adesso vi presento in foto la signora Alvisi Gabriella spero che lo vedete rovesciato però è questa signora ecco questa signora la foto in bianco e nero chiaramente un po datata però ciò non toglie che anche lei ha dato il suo bel contributo quindi io partirei con la sua presentazione perché sarà un po come farla parlare no quindi quella che lei ha scritto come presentazione del suo introduzione del suo libro allora partiamo Gabriella dice non scrivo per egocentrismo o per ricerca di notorietà ma tutto nutro la speranza che tutti coloro che hanno perso un essere caro abbiano le loro pene alleviate e chi è vicino per legge naturale alla morte sappia che quest'ultima non è che una crisi così come la definisce Ernesto Bozzano un passaggio da un modo di vivere ad un altro desidero che tutti vengano a conoscenza che un contatto con l'aldilà è possibile noi siamo divisi da coloro che ci hanno preceduto oltre la barriera della morte da un labile diaframma essi continuano a vivere almeno in un primo tempo così dopo il cambiamento di vita in un mondo spirituale tutto simile al nostro materiale e lo confermo anch'io parentesi perché nei miei contatti spesso mi parlano di com'è il mondo diciamo il primo mondo diciamo che li accoglie parlano di cieli azzurri del sole parlano di pratti fioriti parlano del mare quindi io mi ricordo una signora che era di Genova che era l'amica di un mio caro amico anche dirlo e purtroppo con la malattia quindi era sulla sedia a rotelle e il primo messaggio che ha mandato a suo amico ha detto adesso finalmente posso farmi il bagno in mare quindi per lei che era sulla sedia a rotelle che abitava in Liguria quindi era difficilissimo raggiungere chiaramente quelle spiagge che ci sono in Liguria, Sassose, il mare voleva tranquillizzare che lei ha realizzato il suo sogno farsi un tuffo nel mare quindi questo conferma assolutamente magari ci dividano decine di anni la mia esperienza metafonica è quella di Gabriella ma tutte e due abbiamo avuto la stessa percezione quindi allora essi continuano a vivere almeno un primo tempo dopo il cambiamento in un mondo simile al nostro e ci siamo arrivati se poi se noi sperimentatori siamo ormai un numero incalcolabile non ci decidiamo a contestare i dogmi della scienza e le ipotesi nuovissime della parapsicologia l'umanità non farà un passo avanti sulla strada della conoscenza non avrà una risposta alla domanda che l'ha sempre condizionata la sopravvivenza esiste quindi l'importanza di testimoniare anche mettendoci diciamo la faccia come faccio io eh l'aldilà è un'altà dimostrabile il mondo spirituale in cui sopravvivono coloro che ci hanno momentaneamente lasciato raggiungendo una diversa dimensione ha fatto eruzione in quello materiale i miei amici invisibili così li chiama lei mi hanno detto Gabri il miracolo è nostro ed è così veramente su un punto mi permetto di insistere a tale riguardo sono irremovibile solo chi ha sperimentato a lungo per un numero considerevole di ore le mie amore di esercizio ammontano ormai a circa 6.000 ha diritto di esprimere la propria opinione ecco questo è un punto molto importante solo chi ha seriamente sperimentato può esprimersi sulla metafonia perché quelli che non la fanno o che la giudicano da fuori hanno una percezione distorta come d'altronde l'avevo io ai miei tempi quando leggevo questi libri io non facevo metafonia e quindi non potevo avere un'opinione corretta assolutamente infatti ero molto prevenuta su questa cosa diciamo ma no non è possibile sembrerà mi sembrava tutto molto quando poi l'ho conosciuta sulla mia pelle in prima persona e ho sperimentato in prima persona ho dovuto ribaltare le mie opinioni così come la ribaltate Raudive come la ribaltate Jurgensen persone che sono arrivate alla metafonia e hanno stravolto la loro vita abbiamo parlato l'altra puntata diretta di Jurgensen che addirittura ha lasciato la pittura che era il suo grande amore è un documentarista quindi ha cambiato la sua vita anche con un danno economico se vogliamo ma era talmente preso da questa cosa che non riusciva ad accantonarla stesso discorso è stato anche per Jurgensen Raudive che ha fatto lo stesso percorso la Gabriele Alvisi che è arrivata la metafonia non per ricerca o casualmente come è successo di Jurgensen che ci è arrivata così è arrivata la metafonia nella sua vita così ora Raudive ma per un lutto questa donna dopo ne parleremo ha perso una figlia e quindi nella ricerca spasmodica di ritrovare sua figlia ha intrapreso questo cammino quindi vedete ognuno ha delle motivazioni profonde che l'hanno spinto a andiamo avanti torniamo passi allora su un punto mi prego quindi chi fa metafonia può esprimere il proprio giudizio durante questo mio periodo di ricerche numerevoli sono stati elementi probanti il diniego da parte di certune tra origine della mancanza di conoscenza totale o parziale dei fatti personalmente consiglierei di andare molti cauti nel fare supposizioni nell'avvallare giudizi potrebbero risultare ventati e approristici Costantin Raudive una persona che ho sempre stimato per il suo coraggio ha sfiorato il ridicolo ha rischiato di giocarsi la reputazione di filosofo e di letterato tanto era ormai radicata in lui dopo le prove accumulate nel corso dei suoi esperimenti la convinzione che si trattasse delle voci dei trapassati se anziché Frederick Jurgensen lo scopritore del fenomeno col che definisco il padre delle voci citò Raudive è unicamente perché con quest'ultimo sono state in rapporto epistolare dagli anni 70 quindi vedete come si intrecciano le vite di queste persone no ne abbiamo parlato l'altra volta e anche lei a sua volta ha cercato aggancio conferma da chi l'ha preceduta o quantomeno dei suoi contemporanei allora come per me il mio contemporaneo è stato Riccardo di Napoli è stato lui diciamo il mio faro anche lei aveva le sue diciamo i suoi punti di appoggio no queste comunicazioni elettroniche con l'aldilà sono la vera scoperta del secolo e tranno molto non mancheranno di imporsi all'attenzione generale la storia è piena di uomini all'avanguardia con il pensiero vittime illustri dei loro contemporanei quando Benjamin Franklin presentò ai scienziati dell'epoca il parafulmine fu deriso e la sua scoperta giudicata indegna di considerazione così come quando Koch scoprì bacilo della tubercolosi venne oltraggiato dai mostri sacchi della medicina l'elenco si dilungherebbe a dismisura questo per dimostrare che quando si dice delle cose che sembrano 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 non impossibili invece sono assolutamente possibili ha fatto ha citato degli esempi illustri assolutamente poi quindi dice se fossimo vissuti nel medioevo noi ricercatori saremmo finiti sui roghi dell'ignoranza e della superstizione accusati di necromanzia e di convivenza con il diavolo quindi oppure guardati con malcelata commiserazione perché alcuni di noi avrebbero fatto della parapsicologia una fonte di consolazione ecco perché poi c'è sempre il dubbio che quando una persona che ha avuto un lutto grave come una mamma questa questo fenomeno della metafonia sia un'illusione ok una cosa consolatoria invece non è assolutamente così perché ci sono delle mamme che si sono avvicinate alla metafonia con un approccio assolutamente tecnico scientifico quindi non tanto consolarsi perché hanno voglia di consolarsi volevano la prova effettiva che i loro figli erano ancora vivi perché loro parlano di se stessi sempre come vivi mai come morti ecco quindi è questa una cosa da spiegare quindi andiamo avanti un'altra cosa che ho segnato segnato qua perfetto qui passiamo poi giustamente aspettato un secondo questo ok qui parla della malattia di sua figlia che si aggancia perché lei ha iniziato questo percorso quindi non dirò tutto perché ha scritto giustamente un capitolo quindi farò solo un piccolo pezzo per farvi capire purtroppo la sua la sua figliola si è ammalata gravemente e quindi questa malattia che non perdona l'ha portata inesorabilmente verso la fine allora dice era la fine del 1970 seduta accanto al letto dove gioceva assorpita mia figlia sfogliavo macchinalmente un giornate giornale tentando in vanno di distrarmi per pochi attimi lei si stava ormai allontanando si era già incamminata triste solitaria sulla strada che non ha ritorno l'esperienza dell'uomo è sempre un fatto singolo ma di fronte alla morte dell'essere umano è più solo che mai avevo combattuto una strenua battaglia giorno dopo giorno contro la morte che inesorabilmente guadagnava terreno presentivo che la tragica scadenza era imminente mesi di tortura inenerrabile di lenta agonia poiché conoscevo la sua sorte fin dall'inizio dell'anno quindi questo è il racconto di che da cui lei dedica tutto un capitolo per sua figlia e io ho fatto oltre questa questa diciamo tutti i miei di tutte le analisi le cose operazioni che ha fatto quindi questa ragazza ha sofferto in maniera indicibile io vorrei passare invece alla condizione al ritratto spirituale spirituale che ha fatto della sua figliola adesso vado alla pagina che me la sono segnata perché lei l'ha messa alla fine però penso che sia giusto parlarne adesso perché stiamo parlando di lei eccola qua mia figlia era una creatura deliziosa benché sia sua madre sono obiettiva ovunque andassimo suscitava grande ammirazione la fotografia pubblicata sui giornali che tutti coloro che mi hanno scritto hanno elogiato non era che una pallida riproduzione della sua avvenenza la sua è una bellezza spirituale quando quando bellini leggente delle anni la vide mi disse che più dell'aspetto fisico dava importanza alla grande bellezza interiore e di questi giorni l'affermazione di un giovane che l'aveva conosciuto di ragazzi riconosciuta di ragazze come lei ne esce una ogni centomila possedeva inoltre il dono della simpatia osservando chi le sparlava vedevo che senza avere cognizione le sorrideva con l'affetto come se scongesse lei uno spirito grande i bambini che adorava contraccambiava la sua predilezione non ho intenzione di creare un mito ma un'affinità di volte un'infinità di volte ebbe occasione di vedere bimbi che piangevano sorridere tra le lacrime io la capivo essi rappresentavano un raggio di sole in mezzo a questa umanità insofferente agitata che sembra essere tra l'altro incamminata verso un processo di omogenizzazione anche del linguaggio viviamo un periodo di mimetismo i bambini continuano a essere imprevedibili divertenti pieni di gioia di vivere mi ricordano molti i miei visibili amici e qui faccio una parentesi perché assolutamente vero spesso io quando le comunicazioni sorrido e riesco anche a far sorridere le persone che cercano il contatto perché non mancano le battute di spirito per far sorridere per sdrammatizzare anche da parte loro perché si rendono conto che magari una persona in ansia e quindi come dire che stiamo come si può non dire che stiamo parlando con delle persone che hanno una cognizione di causa che sono intelligenti che sanno interagire che rispondono alle domande quindi anche questa lato umoristico tra virgolette diciamo del sorriso che non manca mai quindi lei qui dice anche da piccola gli aveva sempre adorati i bambini è una splendida bamba in eterno movimento con le tracce del vento e gli occhi azzurri scintillanti di vitalità quindi lei praticamente racconta tutta la vita della sua figlia vedi all'inizio della mattina in un momento di stanchezza fisica i miei nervi cedettero mi misi a piangere mi guardò profondamente negli occhi dicendomi con gravità mamma non ti comportare così se dobbiamo affrontare questa situazione se così è la cioè se così è la affronteremo provai un senso di vergogna e da quel momento la cosa non si ripete più era molto saggia quindi devo dirvi che ecco questo per fare un diciamo un piccolo ritratto un cammeo di questa ragazza lei chiaramente e sua figlia gli ha dedicato capitoli capitoli purtroppo abbiamo un tempo molto tiranno e quindi non possiamo permetterci di dilungarci in questa cosa poi vediamo un attimo ne andiamo avanti allora durante i mesi che seguino la scomparsa di mia figlia presi in questo è sempre gabriella che parla ovviamente io parlo voce a lei presi cognizione della vitalità dell'espressione abisso della disperazione mi sembrava di essere realmente sul fondo di un precipizzo dal quale non sarei più potuto uscire vivevo come in un incubo augurandomi che giungesse presto la fine dei miei giorni per quel che guardava i rapporti con il mondo che mi circondava avevo la sensazione che niente avrebbe potuto più ferirmi mi sentivo psitticamente inerte moralmente anestetizzata unica debo la luce in quelle tenebre la speranza di riuscire a comunicare con lei avevo continuamente davanti agli occhi il titolo dell'articolo che avevo letto nove giorni prima della sua morte qualcuno ci chiama dall'aldilà ripensandoci mi accorgevo che si era impresso nella mia memoria caratteri di fuoco non voglio fare della retorica lo ricordavo veramente in ogni particolare la serietà della rivista e del giornalista che aveva fatto l'inchiesta sul posto offrivano garanzia di autenticità le persone da lui intervistate un letterato filosofo un sacerdote due ingegneri elettrotecnici che in quanti tali potevano esprimere un giudizio valido un professore di fisica non si sarebbero giocati la reputazione coprendosi di ridicolo asserendo di aver stabilito un contatto con l'aldilà quindi questo articolo che lei aveva letto prima della morte della figlia gli era rimasto nel cuore no quindi è dato come un faro come un'indicazione sulla strada che lei aveva dovuto percorrere quindi lei continuava a meditare sull'argovinimento senza prendere alcuna decisione ciò che raccontava il mio temperamento sempre inclina l'azione quindi lei tentennava aveva dei dubbi no su questa cosa cosa faccio mi interessa ci provo non ci provo no quindi va avanti dice avevo cominciato avevo comunque cominciato ad agire mettendomi in contatto col dottor radive ecco che torna qua che risiedeva a bed in germania del sud molto vicino al confine con la svizzera benché io stessa reputassi la mia domanda alquanto difficile gli avevo chiesto se fosse possibile per lui mettersi in contatto con mia figlia fino ad allora avevo intuito che non che che non doveva essere molto semplice ad ogni modo egli ci riuscì quindi lui fece arrivare un messaggio a gabriella da parte di sua figlia il primo uomo che ebbe l'avventura di accorgersi che i defunti avevano stabilito cercato di stabilire un contatto col mondo dei viventi fu jurgerson che ne abbiamo parlato l'altra volta l'avvenimento si manifestò in una maniera appartemente casuale quindi lei adesso dice a sua volta nel suo libro racconta di jurgers di rodive che con cui ha interagito personalmente e quindi non stiamo a ripetere la storia che lo sappiamo già che nel 59 durante jurgers durante una gestazione notturna dei canti notturne degli uccelli praticamente riceve una una voce no quindi riceve delle voci quindi capisce che era un posto isolato non era possibile e quindi questo gli si accende una lampadina e in qualche modo è la parte per questa ricerca no quindi andiamo avanti assi che jugo si pensava finché fossero gli extraterrestri queste voci fu un periodo infatti di quando capì che a chi appartenevano e fu quasi deluso no perché sarà quasi immaginato che appartenessero ad altri mondi no si sentì preso in giro da quelle inesplicabili intelligenze che parlavano talvolta di simboli come volevano specificare un luogo di provenienza delle voci e lo invitavano a collaborare senza andare al di là delle determinate chiarificazioni questo è quello che veniva detto a Jurgelsson ok quindi questi decenni biografici giustamente che lui ha che lei ha fatto poi qui parla giustamente della vita di Jurgel che non stiamo a ripetere e neanche dei rawdive che l'abbiamo già detto l'altra volta abbiamo già accennato qui però devo dire che è un pochino più più come posso dire fatta un pochino meglio è potremmo anche è un po lunghino perché sono due pagine però potremmo fare un accenno sì darò alcuni ragguagli sulla vita di rawdive perché ritengo opportuno definire sia pure grandi linea personalità per desiderio della madre costantin sarebbe dovuto diventare sacerdote a quei tempi la religione della lettonia a cui era nato e cresciuto la religione cattolica era molto sentita il sacerdozio era considerato il culmine dell'elevazione spirituale ma rawdive si tornò dal seminario di riga l'evacuazione deve essere frutto di una profonda ricerca interiore e di una libera scelta andò a Madrid e in seguito si iscrisse alla prestigiosa università di Salamanca dove riuscì ad avere come maestro Miguel de Unamuno il cui pensiero filosofico era tanto vicino al suo modo di concepire l'esistenza allora la vita di rawdive fu un appassionato inedito alla vita immortale tutta la sua letteratura fu impergnata su questa ansiosa indagine quindi vedete che già comunque anche anche lui ha comunque questo desiderio quel cuore di arrivare oltre no quindi come se lanciasse questo segnale no il povero ragazzo letto ne si stabilì dunque in Spagna pese che gli era congeniale si mantenne con santuare traduzioni tra l'altro tradusse vale insomma l'orca tante in lingua madre frequentò si laureano in filosofia lottò ricando con modestia senza parlare di suo contributo contro l'inichilismo imperante della filosofia della filosofia del dopoguerra allora poi qui dice la sua opera filosofica ha fatto moltissimo qui parla tutto quello che ha fatto vediamo un attimo se arriviamo al punto laudiva seguendo sempre gli impulsi del suo cuore prese letteralmente la sua donna nella bacia cercando di sfuggire la linea del fuoco attraverso le foreste di pini che ricopriva il suo paese quindi racconta la sua vita anche da fuggiasco raggiungendo i monti giganti e infine la Svezia quindi tutta la sua vita racconta quindi una persona sempre avvicinò a Jürgen di cui apprezzò la lealtà e la scrupolosa onestà quindi vedete anche questi due personaggi che l'altra volta abbiamo detto che si erano incrociati le loro vite no e quindi insomma racconta un po' tutto la sua vita avventurosa poi alla fine dice Rue Rodive è morto prima che la sua verità si sia fatta strada ma tranno molti tempi saranno maturi in quella dimensione in cui si trova vedrà coronati i successi dei suoi sforzi notevolissimi da lui compiuti negli ultimi anni nella sua vita terrene essi non sono che il conorlari di un'esistenza attesa dimostrare che l'aldilà esiste e che lo spirito dell'uomo come tutto l'universo non si disperde ma si trasforma egli sosteneva che noi siamo creature della luce cioè ritorneremo adesso dopo che la morte del corpo fisico ritorneremo pura energia con Jugos Rodive aveva in comune tanta tante qualità necessaria portare avanti la ricerca tenacia perseveranza intelligenza spirito combattivo entrambi siano trovati in mezzo alle faide dei uomini perché sono tutti uomini che hanno attraversato diciamo il dopoguerra e tutte le vicende dei loro paesi non sempre felici come avevo detto prima quindi è la loro deriva aveva da loro derivava una grande avversione verso la violenza la lotte di parte le ideologie per tutte quelle istituzioni che costringono l'uomo a ragionare dentro schemi fissi incapaci di considerare da mettere idee altrui quindi l'apertura mentale vedete com'è importante non essere chiusi mentalmente ecco essere disposti a guardare oltre gli schemi che ci impongono tutti e quindi devo dire molto 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 interessante questa cosa molto interessante e quindi va avanti poi dice deve spingere a più l'intuizione solo perché non squadra non quadra con le nostre idee preconcette non è adeguato al nostro razzocinio come non è parlare di ampi dubbi noteve perplessità se non si conosce il fenomeno da un giudizio negativo su esperimentazione di cui si è l'oscuro quindi difendono strenuamente questa cosa capito la conclusione la quale ha raggiunto l'audiva e dopo anni di studi di contatto con parapsicologi insignia la seguente noi non conosciamo niente di ciò che ci fa muovere che ci guida niente della sorgente delle nostre facoltà paranormali quindi dopo mesi e anni di studio lui è arrivato a questa conclusione e quindi l'alvisi vedete si appoggia a questi studi di chi l'ha preceduta o in qualche modo si fa una sua un suo pensiero e poi personalmente no quindi torniamo alla nostra gabrielle alvisi e dice a mio giudizio esistono comunque prove di cui darò atto nelle pagine che seguiranno che escludono la partecipazione di questo inconscio ecco perché molti dicono che è l'inconscio che risponde alle nostre domande il nostro se che non è possibile perché questo non spiega perché nei messaggi arrivano delle prove eclatanti per le persone di fatti o cose assolutamente sconosciute al metafonista non spiega perché rispondono alle nostre domande quindi si presuppone che ci sia una forma intelligente dietro se no non risponderebbero ok lei ha avuto migliaia di ascolti attettanti di indagine allittica dello scopo di far convergere le prove ed accettare il fatto che siano i trapassati che ne parlano quindi lei non aveva nessun dubbio più che fosse i nostri cari che parlavano ok quindi non un caso non cose come dicono altri che sono memorie che questi sono disperse non so quale dimensione ok allora il premio nobel max planche il padre della fisica moderna l'audace teorico dei quanti che ne sono serviti di base agli sviluppi della nuova fisica affermò durante un congresso la materia in sé non esiste essa esiste solo in virtù di una forza che mette in vibrazione le particelle atomiche e le tiene unite al microscopio il sistema solare dell'atomo dietro a questa forza dobbiamo presupporle la presenza di uno spirito cosciente e intelligente che costituisce le origini della materia ciò che è vero e reale non è la materia visibile ma mortale bensì lo spirito invisibile ma immortale e qui c'è tutto attualmente condivido pienamente questa opinione disse gabriella alvisi einstein che si è avvicinato al problema dell'esistenza post mortale con la sua teoria della dimensione atemporale diceva che la morte è un passaporto per altrove questo detto da einstein quindi vedete quante persone voglio dire anche scienziati avevano delle idee molto chiare molto chiare pur non essendo metafonisti è quindi allora consigli pratici per stabilire il contatto con l'altra dimensione i contatti con le voci vengono stabiliti con il cuore oltre col cerchio che con il cervello ecco su questa cosa io insisto sempre molto infatti il mio libro non a caso l'ho intitolato dal cuore all'infinito che il cuore è una potente antenne l'amore è eterno e quindi da qui la vibrazione dell'amore che fa da ponte per comunicare con i nostri cari parlo di cuore in modo romantico dice gabriella sappiamo ormai tutti che fisiologicamente è stato declassato a pompa dell'apparato circolatorio qualche tentativo raramente non ha risultato i motivi possono essere parecchi impazienza imperizia nell'uso del registratore perché all'epoca ricordiamo si usava il registratore non certo il computer come usiamo adesso udito poco sensibile nessuna pratica di discernimento delle voci e da ultimo ma non per questo meno importante mancanza di collaborazione da parte loro quindi vedete quanti componenti quanti componenti ci sono per arrivare a una comunicazione metafonica non è una cosa meccanica ci sono molte componenti non sono necessarie pratiche iniziatiche di alcun genere perché i metodi di recezione non sono ancora adeguati la cosa più importante ancora oggi a 17 anni dalla manifestazione del fenomeno è l'addestramento all'udito cosa su cui insisto molto le persone a cui ho insegnato metafonia lo sanno perfettamente che io li seguo per un periodo fino a quando prendono diciamo consapevolezza del mezzo ma poi insisto insisto che procedano con le loro gambe con ore e ore di ascolto perché se devono imparare ascoltare queste voci devono riuscire a riconoscerle e perché questo avvenga devono fare ore e ore di esercizio non c'è altro metodo nessun altro metodo e poi ci vogliono tutte le pazienze discernimento ovviamente perché non è che tutti quelli che accendono un computer arrivano messaggi metafonici a google è perché lì poi si entra in altre cose si può essere capito ecco si vuole sentire quel che si vuole sentire quindi ci vogliono le prove di evidenza almeno questo è secondo me la cosa necessaria poi dice ciò permette dopo un lungo esercizio di distingue dal primo dia primo acchito le voci oltre che alla registrazione anche in mezzo a interferenze radio riconoscendole singolarmente questo succede anche a me quando il tuo orecchio è allenato tu riesci comunque a percepirle io le percepisco anche sul telefonino mi arrivano anche sul telefonino sulla segretaria telefonica ok sulle foto anche delle volte le foto filmati ecco mi sono arrivate anche lì quindi in momenti assolutamente di relax non ero assolutamente canalizzata però è come se fosse una cosa per loro normale fammi arrivare i messaggi che veramente messaggi importanti non magari un momento della mia vita particolare che ho bisogno che mi dicessero delle cose me le diceva me le facevano arrivare comunque ecco le voci parlano in genere molto rapidamente cosa che rimasta tutt'oggi così perché sono molto molto veloci ecco perché quando io faccio metafonia ampio il tempo e faccio un ampiamente un rallentamento del tempo perché sennò queste voci sarebbe sarebbero come posso dire non percepibili dalla maggior parte delle persone un addetto ai lavori le riesce a sentire anche così come arrivano ok ma se io devo far sentire un messaggio sono obbligata fra queste piccole operazioni per rendere più più udibili ecco mettiamola così quindi con non evidenza questo metodo impone uno stile telegrafico e di conseguenza qualche inevitabile errore grammaticale sintattico porto un esempio una voce mi chiese una volta fa rimanerci con un'intonazione fortemente nostalgica probabilmente intendeva dire facci rimanere ecco questo succede anche a me usano come un linguaggio un po desueto come se fosse vecchio no infatti ho fin pensato che non usino più le parole nell'altra dimensione perché sono sicura perché avendo avuto l'esperienza di premorte mi ricordo che la mia comunicazione assolutamente mentale con quando interagivo nell'altra dimensione e quindi come se secondo me se come se avessero disimparato a parlare ecco questo che volevo dire e poi simbolica molto simbolica come se avessero poco tempo e per darti un'idea di una cosa passano fanno prima a darti un esempio che è fatto un discorso magari di dieci righe ecco quindi per chi volesse approfondire lo studio delle voci è necessario che il magnetoforo sia dotato di prese per il microfono per l'apparecchio lago e per eventuale amplificatore cuffie ecco qui stiamo parlando ovviamente di 50 anni fa quindi voi l'ho spiegato l'altra volta le registrazioni venivano fatte con le cassette prima con i nastri proprio le bobine quelle grosse e poi si passò le cassette addirittura per rovesciare si smontavano si girava al nastro e poi si riavvitavano quindi un'impresa epica adesso con un computer fa un tac e si gira giustamente tutta la situazione poi dunque ho segnato anche un'altra cosa qua chiaramente procederci vuole un locale silenzioso quindi lei dà dei consigli ovviamente perché per quelli della sua epoca se volessere voluto fare delle registrazioni quindi un locale silenzioso in microfono chi è capito quindi spiega un pochino diciamo delle cose tecniche ma che pensiamo anche bypassare questo è il pensiero della parede della chiesa ma l'anima non muore passando davanti al piccolo cimitero di un paesetto di piemonte dominato da un castello medievale questa scritta attirava la mia attenzione più di un elaborato concetto filosofico comincia a riflettere sul fatto che l'idea della sopravvivenza affonda le radici nel profondo dell'anima a prescindere dal grado di cultura dagli insegnamenti di ogni genere ricevuto è innata fa parte della natura umana ok infatti se ci pensate anche i popoli indigeni così comunque hanno un senso del che poi lo raffigurano nella foresta nell'acqua della cascata però il senso della divinità c'è è proprio innata nell'uomo ok quindi esiste veramente la sopravvivenza chi mi è stato chiesto cosa pensa la chiesa riguardo il fenomeno delle voci la chiesa ufficiale non si è ancora pronunciata sul fenomeno delle voci per quanto attualmente non intendo ostacolare ricerca scientifica le opinioni dei singoli sacerdoti risultano comunque discordi ve ne sono alcuni che l'accettano altri che tentano di impedire il contatto con l'aldilà mi telefono persone preoccupate del fatto che il loro confessore cerchi di distoglio da fare esperimenti il defunto reverendo frey noto per i suoi studi parapsicologica affermava tutto ciò che ho dito mi forza a credere che le voci provengano da antità trascendentali individualizzate che mi piaccia o no quindi da prete non ho il diritto di dubitare della realtà del fenomeno quindi questo è un prete che si è spesso studioso di questi fenomeni come molti altri che avevamo parlato anche l'altra volta poi era un contatto personalmente dice gabrielle anche con reverendo smith della svizzera tedesca che era un parroco era un ricercatore oltre che un parroco registrava le voci e con lei possiedeva una copia delle nastri sulle sue incisioni e gli afferma qui si tratta di una ricerca che ha per oggetto la verità ma non c'è verità che non conduca a cristo che ha affermato in se stesso io sono la verità perciò ogni progresso verso la verità è un passo avanti verso di lui quindi la chiesa di cristo non ha nulla da temere da una serie indagini sarebbe beneficio sostenere che questo fenomeno sia nient'altro che una proiezione su cosciente quanto più studio il fenomeno tanto più mi convinco che all'origine delle voci stanno esseri intelligenti che non sottostanno alle leggi di tempo e di spazio guardate che importante queste parole molto anche in italia vi sono sacerdoti della notevole apertura mentale profondamente interessati al fenomeno al contrario di altri che biasimano dei settimanali coloro che tentano di stabilire un punto col mondo dello spirito coerentemente con il fatto che la chiesa cattolica da sempre vietato i rapporti con la dimensione a cui appartengono i cosiddetti defunti come me tutti gli sperimentatori odono i viventi di ieri infatti lei nel suo libro ha chiamato le voci dei viventi di ieri vedete ecco il suo libro non a caso anche a lei essi gli invisibili intercultori manifestano di continuo la loro gioia per essere riusciti a stabilire rapporti con il nostro mondo e anche qui apro una parentesi da metafonista loro sono sempre molto felici di comunicare con noi sempre ringraziano ringraziano all'infinito ringraziano me ringraziano i loro cari ringraziano felicissimi e continuano a dire abbiamo il telefono c'è il telefono proprio la possibilità di comunicare quindi vedete che si trovano gli stessi parole a distanza di 50 anni perché doveva essere messi di gabriella perché doveva essere messi in dubbio le loro parole per me il fatto di voler impedire un rapporto con il mondo super sensibile è semplicemente un pregiudizio che si trascina da troppo lungo tempo quando questo contatto sarà diventato generale realizzare reale per tutti l'umanità non potrà che migliorare la propria etica acquistare una maggior tolleranza un maggior senso di giustizia sociale di fratellanza verso i propri simili avrà il culto della verità capirà che il colore della pelle non implica nessuna differenza tra l'uomo e uomo si darà conto che le cariche onorifiche i titoli accademici nobiliari le divise la posizione sociale la notorietà altro non sono che inutili apparenze saprà che ciò che conta è il livello spirituale raggiunto il distacco dal denaro dal materialismo il disimpegno da tutti i desideri l'amore verso i propri simili la libera e facile comunicazione colladirà implicherà la scomparsa del timore della morte la completa serenità di spirito contribuirà dalle coraggio l'umanità sofferente elenirà i tanti dolori creerà nuove speranze concorrerà al ritorno dell'uomo che vive in un periodo di sbandamento e diciamolo pure di alienazione dei reali valori della vita quindi vi rendete conto di cosa sta dicendo Gabriella la mia conclusione è questa ognuno deve cercare la verità in se stesso e questa è una grandissima verità personalmente rispondo al mio operato della mia coscienza senza intermediare non voglio che sia il pensiero mio pensiero l'unica vera verità a cui l'uomo può disporre sia costretto degli angusti spazi di idee per concetti quindi lei dice io la penso così non voglio imporre la mia idea come non pongo la mia io dico sempre chi vuol credere creda chi non vuol credere pazienza e la vita è troppo corta perché io mi ferma possa fermare per per convincere chi non vuole essere convinto no a tutti i costi quindi assolutamente no assolutamente no ho dati io non vedo l'orario datemi un magari un che ore sono così vi lascio un po' di spazio anche per le domande perché quando me leggo poi mi perdo fantastico di prendere cose veramente ecco qua ecco questa cosa è una cosa importante che poi ne parleremo ancora perché questa persona che mi ha contattato ieri ha conosciuto anche padernetti quindi questa cosa hai ragione cristina una fatica fare queste dirette ciao eccoci qua stiamo rientrando tutti ci siamo eroici eroici grandi perfetto eccoci qua sì sì stiamo rientrando abbiamo un attimo tutto il tempo a tutti di ricollegarsi benissimo ciao da lì eccoci qua sì sì stiamo arrivando siamo tutti eroici che state resistendo come sempre mi dirette sono sempre molto travagliate lo sapete che in questa zona è dimenticata dagli uomini e da dio come dico io e le connessioni sono quello che sono ciao maria giulia la mia amica prittice anche lei dunque stavamo parlando ecco quasi arrivate quasi quasi tutti state rientrando i più eroici come sempre stavamo parlando i padernetti comunque gabriele alvisi è riuscita a conoscere ha avuto anche lei la fortuna di conoscere ernetti padre ernetti famoso padernetti del crono visore di cui avevamo parlato l'altra volta e quindi andando avanti diciamo che lei racconta come è venuto questo incontro no dice mio marito dovendo recarsi a venezia per affari mi offerse di andare con lui mi offri di andare con lui mi banderà subito la possibilità di raggiungere padernetti al quale avevo scritto tempo addietro possedevo due numeri telefonici uno del conservatorio benedetto marcello dove insegnava l'altro corrispondente sul luogo di residenza sull'isola di san giorgio maggiore immaginavo che si trattasse di un convento dato che padernetti appartiene all'ordine di parlare presente perché ovviamente era vivente all'epoca appartiene all'ordine dei benedettini era sera inoltata fece il numero una voce femminile rispose qui fondazione giorgio cini temo di aver sbagliato disse avevo voluto parlare con padernetti gli lo chiamo subito tutto andò a posto come in un gioco di incastro ebbe un interessante colloquio con lui la prima cosa che mi disse spontaneamente fu che non si rendeva conto del fatto che come l'avevo chiamato al telefono gli fosse balenato subito alla mente il mio scritto quando erano migliaia di lette che riceveva ogni giorno relativamente ovviamente riceva queste lettere riguardante la sua scoperta che era apparso sui giornali del cronovisore famoso quindi la possibilità di vedere una macchina del tempo praticamente quindi inoltre gli disse non so come ebbe a futuro raggiungimi a venezia perché in questi giorni faccio la scuola tra questa città e roma quindi era stata una serie di casualità fortuite e fortunate per cui riuscì a incontrarlo padre innetti era un uomo di una modestia e semplicità eccezionali dalla fisionomia intelligente aperta gioviale naturalmente tutti si chiedevano perché la sua scoperta non fosse stata divulgata lui rispose sentite bene cosa disse sul cronovisore sarebbe il suicidio dell'umanità mi rispose il benedettino questa scoperta è pericolosa toglie la libertà di pensiero e conseguentemente di parole di azione in quanto è in grado di catturare le onde messe dalla nostra mente onde e anche a me parlano sempre di onde guardate come torna tutto è perché quando io sbaglio sbagliano di compormi una parola parlano di onda anomala non dicono sbagliato ho fatto un errore onda anomala mi dicono l'umanità per accettarla dovrebbe capovolgere la propria etica di conseguenza autorità religiose civili non ne permetterebbero per ora divulgazione quindi capite la portata di questa invenzione si attende per farlo una conferma ufficiale da parte degli scienziati di altri paesi in america stanno mettendo a punto questa ricerca tale scopo esiste un numero ingenti di antenne che coprono circa 30 chilometri quando parlai a padronetti degli inanimisti che mettono in dubbio un fenomeno tanto oggettivo come quella delle voci che si manifestava per mezzo da fredda macchina amorfa sbottò non mi pare non mi parli degli parapsicologi proseguì poi con un'intonazione decisa e un po polemica riferendosi alla sua scoperta se vado se vedo una persona che su una collina della galilea predica in aramaico il discorso delle beatitudini mentre la gente ha quella ad ascoltarla che motivo avrei per mettere in dubbio che si tratti del cristo vi rendete conto le onde sonore visive che noi mettiamo mi spiegò non si distruggono ma si trasformano restano eterne e onnipresente di conseguenza come apparecchiatura adatte si possono ricostruire come avviene con altre energie per mezzo dell'oscilligrafia elettronica è possibile dimostrare che la parola è musica ritmata in ogni suo elemento non solo ma anche il grafico delle vocali delle sillabe delle parole pronunciate è diverso in noi è così possibile ricostruire le personalità di ogni singolo individuo queste onde dunque emesse dall'uomo sono trasformabili ma ricattabili e ricostruibili dagli apparecchi qui spiega in poche parole la sua invenzione ok mi colpì soprattutto la sua formazione che l'onda visiva e sonolaco ognuno lascia dietro di sé come un'onda immateriale carta di identificazione è energia e come ogni elemento è formata di luce di si si dissolve nella luce non posso dare raguagli più precisi sulla misteriosa macchina non avendo a vista perché tra l'altro non si trova a venezia ma in un'altra città padernetti mi fece la descrizione dell'immagine che si presenta sullo schermo come un terrificante boato come un botto e su questa devo dire anche qui apri una parentesi specie nelle prime comunicazioni quando io avviavo la comunicazione arrivava all'inizio alla fine come un botto proprio esatto proprio un boom proprio una botta fortissima sordano come una botta di energia un'esplosione e qui parla della stessa cosa come se chissà che sa forse non lo so però è la stessa cosa ci va a me adesso non più però inizialmente si primi anni si o corrisponde un salto del sistema nervoso personaggi morti recentemente di cui sia un'ampia documentazione sia visiva che uditiva sono stati riconosciuti perfettamente senza possibilità di equivoci ecco quindi io dico questa testimonianza della gabriella alvisi è di una portata eccezionale e poi comunque l'arricchirò quando riuscirò a parlare in maniera più approfondita con questa persona che ha conosciuto padernetti perché l'ha conosciuto quindi avrò modo di avere qualche ragguaglio in più sicuramente che mi serve mi interessa e mi servirà quindi andiamo avanti quindi chiaramente l'alvisi ha ricevuto anche dei messaggi adesso ve lo dico anche da personaggi famosi no come rodolfo valentino che a suo dire aveva già in vita diciamo delle dati delle doti medianiche no e quindi con le febbre quindi interpellò i miei amici sull'assurdo caso di le febbre chiedendo che cosa ne pensassero mi risposero ci accorti alla priere le febbre roma non conta più non importa più ennesima dimostrazione che di là ognuno ha idee personali come avviene tra di noi durante la stessa trasmissione si fa vivo rodolfo valentino soggiungendo anche dopo aver declinato il suo nome l'uomo più amato quindi è ancora e allora che torna alla mia memoria una supposizione che avevo già ventilato che valentino aveva doti medianiche e quindi che il gruppo come definisco degli specializzati che comunicano per radio abbiano conservato nell'aldilà la facoltà che avevano sulla terra e io di questo ne sono sicura se una persona in vita era che ne so simpatica spirituosa nelle comunicazioni di presenza le stesse identiche qualità ecco le stesse identiche qualità proprio caratteriali no se era fredda rimane fredda in modo di affrontare anche la comunicazione no quindi questo è importante secondo me ecco qui fa un episodio che racconta di gabrile d'annunzio no dice chiudo con l'episodio d'annunzio mi trovo sul lago di garda mio marito esprime il desiderio di rivedere vittoriale che è una bellissima casa dove abitava d'annunzio che consiglio a tutti di andare a vedere chi non l'avesse già fatto veramente splendida lo seguo benché non mi interessi un granché comunque analizzo il personaggio sotto un profilo diverso mi rendo conto che la sua fu una vita vissuta pienamente carica di esperienze di ogni genere osservo il tavolo su cui le clino al capo moreno in seguito all'embolia celebrale non so cosa sia l'invidia ma in questo caso lo intuisco deve essere questo il mio sistema per passare all'altra parte peccato che non vi sia libertà di scelte la truppa vecchiaia come egli la definiva si era conclusa per lui con una bella fine mentalmente durante la visita gli chiedo di rispondere per mezzo del registratore quindi lei registra nella casa di vittoriale giunta a casa la sera lo chiamo da prima micro microfono senza risultato poi per radio la comunicazione inizia con la frase divertente totalmente inattesa sei un chicchirichi nulla da cepire d'annunzio era un galletto considerando l'importanza storica letterale del personaggio mi sarei aspettata un'affermazione di ben altro stile lo spero ben fu la risposta una voce femminile conferma la presenza dello scrittore abruzzese quindi egli con estrema nitidezza pronuncia la fase fa quel che non è nello stile tipicamente d'annunziano la voce femminile ribatte che cosa vuoi fare d'annunzio ecco questa cosa e spesso parlano fra di loro e noi assistiamo assistiamo a queste discorse torre fortissimo è perché anche a me è successo delle volte che dicono arrivato un altro siamo qua sono qua in due oppure noi ci sono io a parlare come veramente come se si contendesse la possibilità di parlare oppure vi faccio un esempio come è successo a me una volta sono andata in un memoriale in un ossario praticamente di guerra di questa battaglia e sono entrata in questa chiesa ed era un po diciamo impressionante perché c'erano tutte queste ossa messe chiaramente per arreddare tutte le pareti i teschi vedevo tutti i teschi colpiti dei proiettili in testa immaginavano tutti i ragazzi giovani quindi mi è venuta una tristezza è grandissima perché tutti questi ragazzi giovani morti in questa battaglia che era morto su questo monte poi dopo tantissimi anni hanno raccolto tutte le ossa e ha fatto questo questo santuario questo ossario e ho provato un moto di come posso dirvi di tristezza si tristezza tanta gioventù morta per niente secondo me perché possono per dei valori che visto quello che oggi c'è dici per cosa sono morti a fare queste persone beh per farvelo a breve ho fatto delle foto in questo posto quando dopo il video sono andata a rivedere chiaramente questi sono piccoli filmati le mie foto che c'è live sotto c'è si sente chiarissimo non ti preoccupare siamo tutti al sicuro quindi avevano letto nel mio cuore il mio pensiero e mi avevano dato la risposta non ti preoccupare siamo tutti al sicuro come per dire non ti preoccupare più per noi quindi vedete questa possibilità di di interagire come lei con d'annunzio vedete e quindi e poi alla fine d'annunzio dice mi sento un frate no? probabilmente per un percorso che stava facendo quindi è bella questa cosa non esiste esiste un continuo cioè proprio è così è veramente così no? quindi questo della figlia ve l'ho detto adesso volevo dirvi la avevamo fatto ah sì lei ha fatto un esperimento eh una specie di tavola rotonda di calderola detto no? quindi nel mese del domenio del settembre apparve un articolo su di Giuseppe Grazzini riguardando il fenomeno delle voci il medesimo che insinuava il mio animo la speranza di poter udirmi a figlia dopo il passaggio dalla parte sua dell'ultimo confine un lampo attraversò la mente dell'ingegnere Mancini Spinucci che da 40 anni si dedicava allo studio della parapsicologia il suo intuito dopodiché oltre che la sua cultura e la sua intelligenza l'hanno portata ad accettare grazie ad inconfutabile prove della tesi spiritualista quindi ha fatto degli esperimenti anche con questi personaggi che erano degli studiosi vedi egli ricordo in quell'occasione di essere in possesso del verbale di una seduta spiriti in cui aveva partecipato nel lontano 34 e tenuta a Roma dagli ampi poteri un'entità sconosciuta aveva comunicato che nella di là erano in atto uno studio di un dispositivo atto a registrare le segnalazioni dei disincarnati ecco quindi lei segnala questa cosa come per dire che questa cosa era già stata annunciata capito proseguì dicendo che sarebbe stato facile grazie a questa macchina ricezione del pensiero dei trapassati sempre viventi intorno a noi sentite come parlano sempre viventi intorno a noi quindi vedete che ci sono proprio dei preamboli no quindi che lei spiega praticamente tutte queste cose di studi questo fatto quindi e tante persone che hanno i predecessori capito che hanno sono riusciti comunque hanno anche cercato di dargli una certa dignità appoggiandosi anche degli scienziati come l'hanno fatto molti no però poi alla fine questo rimane sempre un po una terra di confine no e forse non c'è forse la volontà no non c'è proprio la volontà che vengano svelati certi arcani no perché sappiamo tutti che siamo più facilmente manovrabili se siamo controllabili in qualche modo e questa sempre questa cosa ti dà un'estrema libertà io direi passare la conclusione che ha fatto gabriella a chiusura del risultato della mia esperienza invito tutti coloro che mi hanno seguito fino in fondo a riflettere sul fatto che benché sia stata stimolata questa ricerca dal profondo desiderio di udire la voce di mia figlia ho sempre vagliato ogni situazione ogni frase ogni parola con fredda logica quindi lo dice bene mi è stato detto dagli parapsicologi senza ambaci senza ambaci che io ho fatto della parapsicologia una fonte di consolazione evitando di fare un'intelligente valutazione del fatto che in me l'aspirazione è ricercare la provenienza delle voci era altrettanto grande come quella di riceverne conforti ho sempre detto scherzando di possedere il complesso di san tommaso non credevo se non in ciò che potevo verificare quindi una donna che malgrado il dolore mantiene l'aspetto razionale non vuole essere consolata vagamente ma vuole anche le conferme la registrazione delle voci ha rappresentato per me una sorta di rinascita ma questo non significa l'accantonamento da parte mia di un imparziale giudizio quindi lei cerca di far capire che è sempre stata critica ok non interessava fare proselitismo informando l'impugnione pubblica di questo fenomeno non corrisponde al vero ho solo desiderato far conoscere la mia esperienza per un motivo capitale la disgrazia da cui sono stata colpita mi ha portato a nutrire dell'affetto per le persone che soffrono per i miei compagni di viaggio e di sventura attualmente dopo migliari ore di ascolto l'esistenza post mortale ormai per me è una realtà dimostrabile se si dovesse pensare l'essere umano come un sistema vitale che nasce e muore senza uno scopo senza una finalità soggiacente la vita sarebbe da considerare il triste disegno di un pazzo in un primo tempo sentivo la necessità della verifica della scienza poiché non avevo accumulato elementi probanti e non ero in contatto con altri ricercatori pensavo inoltre che se il fenomeno si fosse divulgato sarebbero stati intraprese ricerche con attrezzature adeguate ora la situazione si è capovolta il numero di persone che lo hanno stabilito è in contatto è sempre enorme e pensate adesso che sono passati dico io altri 50 anni il numero di persone che hanno stabilito contatto è enorme ragionevole ragione per cui si può dire che ogni giorno vi vengano fornite prove di straordinario interesse e verifica scientifica ok lo scientificismo neopositivista che peraltro nel nostro paese non ha studiato il fenomeno della psicofonia perché la metafonia è chiamata anche psicofonia continua ironizzare sulla tesi spiritualista si leggono articoli nei quali si cerca di stipare concetti elucubrati di assiomi in cui si fa il massimo sfoggio di erudizione si cognano neologismi sarcastici si introducono citazioni magari barando perché molte volte il significato di una frase avvulsa del contesto originale può risultare distorto e qui altra postilla ce la metto perché un ti voglio bene detto così possiamo dire che sia casuale ma un ti voglio bene detto dal tuo caro con la sua voce che aveva in vita ha tutto un altro spessore e questo succede con la metafonia non sempre l'ho sempre detto però succede succede le mie parole potrebbero venire giudicate polemiche ma non è così si tratta di semplici constatazioni nessuno è in grado nei nostri giorni di dimostrare che le voci non provengano del mondo degli difunti e allora perché si parla per giudicare accorrebbero delle prove ma quest'ultima possiedono solo gli sperimentatori seri anche se si tenta con mezzi in lazioni astruseria di vanificarle lo studio del mistero con qualsiasi nome si voglia chiamarlo metafisica metapsidica parapsicologia psicotronica è aperta a tutti con un minimo di cultura di base chiunque in grado di fare una valutazione dopo adeguate indagini coi pro e contro innumerevoli sono le persone che sono riuscite a stabilire un rapporto con l'altra dimensione e che ora cominciano a fare apprezzamento dall'interno mentre coloro che non hanno mai sperimentato anziché astenersi dal fare commenti il che sarebbe l'atteggiamento più logico continuano dall'esterno a manifestare il loro scetticismo il fenomeno delle voci per loro diviene il fitto come tale pur non essendo meno fenometrico della nascita della morte ho potuto notare che chiunque sia deciso a ricevere messaggi a costruire un ponte con l'aldilà superando gli ostacoli quali la mancanza di pratica nell'uso delle precchiature la carenza di tempo l'estramento dell'udito e dall'ultimo la stanchezza fisica riesce sempre nel suo intento e qui con questa frase che chiudiamo la storia di gabriella è la stessa frase che ha detto jurgerson chiunque ha un serio motivo di affetto di cuore di conoscenza profonda spirituale ottiene dei risultati quindi vedete come veramente ritroviamo gli stessi pensieri ma li penso anch'io che sono nel 2020 penso anche la stessa cosa ecco diciamo che io a differenza loro non sto cercando di fare una catalogazione di tutte le voci che ricevo perché comunque sono convinta che fra 50 anni con mezzi che saranno sicuramente diversi da quelli di oggi non avrebbe tanto peso ecco questo che voglio che voglio dire perché comunque ci saranno altri metodi può darsi che poi le registrazioni si smagnetizzano chissà chissà e quindi che prove sono cioè le prove sono al momento come detto al momento che tu le fai che un proprio caro senti la voce del tuo caro ti dice delle cose della loro vita ma fra 50 anni non ci saremo più né io né loro diciamo 100 anni c'erano ottimisti così non ci sarà più nessuno che potrà dire come non ci sono più testimoni del tempo di gabrielle alvisi non c'è più non c'è più non c'è più arnetti stiamo parlando di personaggi e quindi vi dico io lo faccio con estrema stima e voglio onorare la memoria di queste persone questo è il mio scopo il mio lavoro io perdo veramente del tempo nel senso ore a leggere questi libri mi fa veramente piacere perché sto riscoprendo delle cose che non avevo valutato perché non facevo metafonia e quindi voglio veramente rendere e non potrò rendere omaggio a tutti nel senso che sono mi si rendo conto che sono tantissimi ne citerò soltanto qualcuno perché ho dei libri perché ho trovato del materiale di cui parlare ma ce ne sono veramente tantissimi quindi adesso visto che la connessione tiene finché tiene abbiamo letto questo bellissimo libro che vi faccio rivedere eccolo qua le voci di viventi di ieri e vi dico se avete qualche domanda io ben volentieri rispondo fino a quando è possibile col cuore davvero qualsiasi domanda vogliate farmi sono qua vi lascio qualche minuto siamo insieme quindi in estrema compagnia se invece tutto quello che vi ho detto è stato esaudente e quindi non avete domande io dopo chiuderò la comunicazione io questa volta lo decido io la connessione che cade patrice mi sta dicendo stai onorando la loro memoria e serietà sì questa è la mia intenzione è proprio la mia intenzione infatti non parlo delle persone che ci sono viventi ci sono anche adesso delle persone che fanno metafonia valide però sto parlando di quelli di ieri quelli che non ci sono più l'orella dice credo che in tutto quello che hai detto loro ci sono e sono con noi ma come facciamo noi a nennire questo dolore lancinante che non ci abbandona l'orella con una grande grande ricerca interiore perché non c'è nient'altro capisci anche i messaggi è bello riceverli è giusto sono confortanti è bello vedere una persona che arriva a te diciamo disperata e ti saluta con le lacrime di commozione di gioia perché spesso succede però c'è tutto un cammino da fare non è soltanto il messaggio che uno deve io vedo tante persone che dicevano chiedono a tutti cercano messaggi da tutti non è quello non è quella la strada quella può essere un gradino della scala ok un gradino ma poi ce ne sono tanti altri cioè noi dobbiamo trovare pace in noi stessi nei nostri dentro di noi nel nostro modo di essere nel nostro credo quando noi troviamo la pace noi stessi e capiamo certe cose cioè che la morte è una trasformazione affrontiamo anche i dolori della vita anche i peggiori e io non è che parlo parlo a ragion veduta con un altro con un'altra serenità con come posso dirvi con un altro equilibrio ecco una mamma un'altra mi disse questa frase che mi ha diventato la mia cara amica questa mamma mi disse io non sarò mai più felice perché non è possibile però ho trovato un equilibrio dove un equilibrio non avevo più ecco trovare un equilibrio questo non ci restituirà i nostri cari in carne e ossa ovvio questo non è possibile non qui in questa dimensione materiale però ci fa capire che loro ci sono quando parlano di leggero diaframma che ci divide da loro è proprio così è un diaframma che ci divide da loro perché io vedo nei messaggi loro sanno quello che facciamo nella nostra quotidianità quello che pensiamo quello che diciamo tutto non come cose persone lontane ma che persone che sono nella nostra vita capite nella nostra vita poi hanno dei compiti spirituali ma noi non dobbiamo ragionare in termini materiali se sono qui non possono essere là loro sono ovunque hanno uno spirito che non ha più limiti fisici possono essere qui e nello stesso contempo essere su un altro pianeta capite quello che voglio dirvi possono tutto veramente è lì che si veramente si trova la pace capito non che il dolore ci viene risparmiato non viene risparmiato nessuno purtroppo la vita è molto dura molto molto per alcuni moltissimo però se tu nel tuo cuore hai delle certezze comunque affronti tutto con la consapevolezza che non finisce tutto ecco quello che voglio dirvi no è questo che dà la forza però è un cammino che ognuno deve fare nessuno può darti questo con una bacchetta magica capito non è possibile sei tu che ti metti in cammino la Gabriele Alvisi ha fatto comunque un percorso anche lei per arrivare alla comunicazione vedete è partita dal dolore ma è arrivata ad altro ed è arrivata ad altro quindi non è e poi come Jurgis non è partito dal dolore è successo perché è successo a me è successo perché è successo è morto mio papà ma io dopo un anno ho sentito la sua voce in un filmato è arrivato con la sua voce che aveva in vita dicendomi che era lì quindi succedono queste cose quindi io ho incontrato Riccardo di Napoli e quello è stato il mio diciamo il mio mio maestro e quindi mi ha in qualche modo aiutato è stabilito certi 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 basi la Gabriele Alvisi ha si è appoggiato a Jurgerson a Odive vedete che l'aveva conosciuto come tale scusate è stata scomposta e l'aveva conosciuto quindi si è basato su questo Ernetti quindi ha ampliato la sua conoscenza non si è fermata la messaggistica perché dopo voi non ci crederete ma diventa di secondo piano la messaggistica io so che tutti desiderano i messaggi anche a me chiedono tutti i messaggi ma io cerco sempre anche di dare qualche questo qua è per dare delle altre basi per aiutare tutti a crescere me compresa perché anche io sto imparando sto rivedendo delle cose che non avevo valutato bene perché non facevo metafonia invece adesso è bello rileggere dire però guarda parlando di onde anche a me parlando di onde le voci veloci anche le mie voci sono molto veloci quindi vedi che non cambia c'è proprio un progetto e io lo so che c'è un progetto di cui queste persone hanno fatto parte io ne faccio parte per il tempo che mi verrà assegnato altri faranno parte per il tempo che verrà però l'importante è che sia dimostrato che questa cosa è possibile mi sta dicendo scusate adesso perché io so benissimo che quando parlo sono una ecco mi stava dicendo Anna che adesso passo il post che il 23 maggio c'è la mia diretta su focus infatti il 23 maggio alle 15 ci sarà la prossima diretta su focus per l'università lux quindi ci sarà un'altra diretta di questo tipo e poi avremo un'altra diretta però quella la faremo più avanti a fine mese il 30 maggio sempre con focus alle 21 e poi serie se riuscirò farò sul gruppo metafonico alta alfa e una mia diretta magari la farò prima del 30 ecco perché è passato passa troppo tempo e quindi cercherò di farlo questi sono gli appuntamenti comunque sulla mia pagina troverete tutti gli appuntamenti sia quelli di focus le dirette gli orari i giorni si sulla mia pagina gruppo metafonico alfa io metto sempre tutto lì eventi a cui partecipo tutto così tutti possono comunque sentire e seguire se sono interessati quindi io sto guardando se c'è qualche domanda ecco dice se ci crediamo non occorre il coro della ricerca chissà quale risposte arrivano arrivano guardate io che sto facendo questo lavoro mi ha telefonato una persona che anche lei mi ha detto io non so perché ti ho chiamato una persona che insomma è più grande di me e parlando e lei non sapeva che stavo facendo questo questa università su questi grandi metafonisti e parlando è venuto fuori che lei conosce tutti questi metafonisti perché è un età tale per cui ed è anni che in questo campo e quindi conosce ha conosciuto ernetti ha conosciuto la laurea paradiso conosciuto riccardo di napoli quindi mi sta dando degli aspetti della loro vita dei pensieri dei suggerimenti che non faranno altro che arricchire queste lezioni che è un è un dono inaspettato del cielo che mi è arrivato perché io ho detto ma io sto facendo proprio questo ma sta stupita anche a letto ma io non lo sapevo infatti oggi forse sarà collegata no no ti voglio ascoltare e quindi mi darà arricchiremo queste 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 lezioni queste dirette anche con questi questi valori aggiunti ecco queste memorie che non sono sui libri ma su memorie storiche no viventi che possiamo prendere e fermare per sempre in questi video è molto bello allora alberto bonini dice ma come mai nessun altro è più uscito a costruire un altro cono visore tanto più che la tecnologia enormemente progredita mi sembra sinceramente impossibile alberto non so risponderti sicuramente questa macchina è stata è stata è stata creata poi lui ha dovuto chiaramente sarà stato messo una condizione per cui non ha potuto portare avanti o vanno ha valutato che la forse era meglio così per tutti non lo so però c'è scritto il libro poi c'è anche padre brun che ha scritto ha scritto un libro su questa cosa quindi secondo me è una cosa che è stata messa a tacere probabilmente i tempi non erano maturi non so giudicare questa cosa non sono capito proprio la persona più adatta però penso che ci sia del vero assolutamente poi chi ha conosciuto padernetti e anche questa signora ne abbiamo parlato per come me l'hanno scritto assolutamente una persona valida e quindi studioso scienziato come posso dirvi e come padre luderico magni sono quelle persone che hanno comunque anche una cultura scientifica eppure credono credeva anche padre magni non c'è più anche lui comunque credeva in queste comunicazioni la possibilità di queste comunicazioni perché lui lo spiegava anche in maniera scientifica su youtube ci sono delle andate se andate a vedere lo troverete dei suoi filmati in cui spiega anche la parte scientifica per cui ritiene che queste cose siano possibili ma adesso amici ciao c'è stato un messaggio che ti ha particolarmente colpito guarda tantissimi 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 ho avuto delle prove eclatanti sia pubbliche con un pubblico di trecento quattrocento persone arrivavano messaggi per una persona col suo nome anzi col nomignolo con cui la chiamava con la voce del figlio con la voce del papà guarda addirittura il cosa clattantissimo con una roba che mi è rimasta impressa è stata una volta convivio di roma che ero stata invitata a sostituire una persona che ultimo momento non è potuta andare e praticamente sono tutti due genitori di cui lui è entrato il marito ha detto io non credo in queste cose però mia moglie ci crede quindi l'accompagna peraltro sono anche sordo perché un timpano perforato non può se non posso sentire comunque io ho detto vabbè si sieda lì e ascolti comunque no arriva il messaggio e il figlio dice alla mamma e da questo ragazzo dice mamma guarda che ti vedo che metti centesimi a pacchettini di un euro nel comodino lui si gira verso la moglie fa cosa fai tu metti i pacchettini un centesimo dentro il comodino e fare si sai perché io tutti i centesimi li metto assieme con lo scorcio faccio i pacchetti da un euro e poi li do la panettiere che i centesimi servono no poi si gira verso di me e mi guarda ma io ho sentito come per dire come è possibile io non sento non sento neanche lei quando mi parla quasi delle volte se non urla ho sentito tutto ed era la voce di suo figlio questi signori sono usciti da me vi assicuro erano veramente sulle nuvole c'è proprio una cosa felici che non potete immaginare perché pensate vedete quando dico che bisogna escludere che siano cose che sono così che vagano nel lettere questa cosa non lo sapeva nemmeno il marito che viveva in casa con questa signora cioè il marito non sapeva che la moglie facesse questa cosa e il figlio dopo gli ha detto se sei contenta te di perdere tempo così è un problema tuo come per dire perdendo tempo ma se piace a te va bene quindi come si può dire che sono cose non ragionate non pensate e che non dimostrano che c'è tutta un'intelligenza qualcuno che vede quello che succede in casa neanche il marito che era in casa sapeva che succedeva questa cosa lo sapeva soltanto lei lei era rossa come non vi dico era tanto rossa come una bambina che è stata scoperta però dopo la gioia immensa perché è una prova e questa per farvi l'esempio c'è una persona con un tempano perforato che sente un messaggio metafonico che di per sé sono già difficili da sentire e il suo figlio è venuto con la sua voce con la sua voce ma ve ne potrei dire tantissimi questo è quello più che mi viene in mente in questo momento ma veramente tanti 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 tantissimi uno più cioè io infatti ho detto un giorno dovrà raccoglierli tutti queste cose non devo farlo questa cosa magari con la testimonianza delle persone sarebbe bello perché così c'è riscontro se no sembra che uno dice delle cose che non sono reali e se le persone sapeva una bella idea ci penserò poi seguiamo un pochettino luci la dice grazie il le sono io anch'io sono d'accordo con te mettonia ci aiuta a crescere a far crescere esatto deve essere così ciao per ricco carissimo ottima spiegazione un caro saluto grazie grazie ricco il suo bellissimo convegno fa un collega santa severa molto molto bello molto bello ecco di bello in bello c'è tutto lui lo sa cosa voglio dire per ognuno c'è un progetto si loro parlano sempre di progetto dell'anima questo me lo dicono sempre anche a me hanno detto c'è un progetto come se facessi parte di questo progetto grazie 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 a voi grazie a voi sempre di partecipare così numerosi ma non faccia contatti questo per me è una grande una grande gioia anna dice faremo un bel lavoro tutti assieme certo anna ovvio ti è capitato che qualcuno raccontasse d'orella dice ti è capitato che qualcuno ti raccontasse un contatto fisico si hanno anche delle percezioni più che contatti fisici a qualcuno è capitato di vederli o di sentirsi questo succede anche a me delle volte di sentirmi baciare poi mi giro poi dico no sono in casa da sola capito sulla sulla fronte sulla guancia sì 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 è molto bello diciamo gli abbracci più nei sogni succede che si possa fare questa cosa di riabbracciare i propri cari perché è uno stato in cui riescono a intervenire molto luci l'ha messo un link su padernetti perfetto ottimo così possono guardarlo tutti ciao enrico grazie dell'ospitalità daria dice non conosciamo ancora troppe cose delle leggi che domini universo il film di interstella faceva vedere la realtà quanti che parla parallele eh sì conosciamo davvero poco daria e mia sorella che saluto e si conosciamo davvero molto poco chissà forse infatti una volta io ho chiesto ma a che punto siamo dalla ricerca mi ha detto siamo all'abc come per dire che siamo proprio all'inizio e questa la dice lunga la dice lunga io sono convinta che un giorno ci sarà la possibilità di comunicare con i nostri cari è proprio come un telefono che noi schiaccieremo un tasto e riusciremo a comunicare con l'altra dimensione e ne sono convinta di questa cosa che arriveremo anche a questo io probabilmente sarò dall'altra parte però sono convinta che succederà perché comunque vedete che una progressione i nastri le cassette il computer vedete che quante cose no come stiamo andando avanti quindi ognuno deve portare il suo contributo sempre con razionalità sempre con discernimento io non mi stancherò mai di ripeterlo perché è il fondamento vedete che anche Gabriele Alvisi continuava comunque a mantenere un atteggiamento doverosamente obiettivo e razionale ok quindi sempre con razionalità però davanti alle prove che a tanti non c'è dubbio quindi io vi abbraccio tutti vi ringrazio mi scuso quella piccola interruzione che c'è stata vi abbraccio veramente col cuore grazie di aver di essere stati con me ecco vi ringrazio tanto alla prossima ciao a tutti buona giornata grazie